... Altro sit-in di protesta sotto il palazzo della Regione in Piazza Italia Perugia, i lavoratori della Sogesi non si arrendono e continuano a farsi sentire chiedendo ancora una volta aiuto alla Regione, aiuto che tarda ad arrivare. Muniti di lenzuola bianchi, tamburo e megafono hanno fatto sentire tutta la loro disperazione. La manifestazione è avvenuta durante il Consiglio regionale. Verremo licenziati perché non c'è lavoro. Noi siamo qui per chiedere alla Regione che intervenga in qualche modo, cioè in una problematica di salvaguardia del posto di lavoro, dove appunto questa salvaguardia non era stata messa in questa gara, era stata appunto fatta presente sia alla vecchia legislazione e ovviamente appunto anche adesso alla nuova legislazione. Quindi vogliamo con forza mantenere il nostro posto di lavoro. Abbiamo servito comunque l'Aslo Umbra per 40 anni. I lavoratori della Sogesi di Cannara sono in stato d'agitazione da diverso tempo e ogni giorno che passa diventa sempre più difficile per le 200 famiglie Umbra. La Regione ha ascoltato i dipendenti, ma all'atto pratico i lavoratori non hanno ancora visto riscontri.